In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Sialodato Gesù Cristo, sempre sialodato. Maria Sede Sapientiae, ora Pronobis. Continua la vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno. Undicesimo episodio I primi miracoli di potenza Gregorio, il suo stesso linguaggio abituale, Pietro, non era mai privo del peso soprannaturale. Infatti, poiché il suo cuore era tutto intento alle realtà divine, nemmeno una parola usciva in vano dalla sua bocca. Per questo, anche se talvolta diceva qualcosa, non già come ordine deciso, ma solo come minaccia, l'efficacia della sua parola era tale che quanto proferiva non risultava come cosa incerta, o come una semplice possibilità, ma come una vera e propria sentenza. Ecco un esempio. Non lontano dal monastero vivevano in solitudine due religiose di nobile famiglia, e un cristiano pieno di zelo prestava loro servizio per le necessità della vita quotidiana. Accade però che in alcuni la nobiltà del casato si associa a bassezza d'animo. Infatti, la consapevolezza di essere nati in certo qual modo qualcosa più degli altri, li rende meno capaci di umiliarsi in questo mondo. Così dunque le due suddette religiose non erano ancora giunte a dominare del tutto la lingua, come avrebbe richiesto l'abito che portavano. E spesso le loro parole provocavano all'ira quell'uomo buono, Epio, che si occupava delle loro necessità materiali. Egli, dopo aver sopportato a lungo questa situazione, si recò infine dall'uomo di Dio, e gli parlò di tutti i maltrattamenti che doveva subire. Udito questo a loro riguardo, subito Benedetto fece loro giungere questa ammunizione. Frenate la vostra lingua. Se non vi correggerete, io vi scomunicherò. Con questo egli non intendeva pronunciare una vera e propria sentenza di scomunica, ma soltanto minacciarle. Quelle però, senza essersi emendate dal loro vizio, dopo alcuni giorni morirono e furono sepolte in chiesa. Ora, tutte le volte che in quella chiesa si celebrava la messa solenne, quando il diacolo, secondo il rito, intimava, «Chi è scomunicato, esca», la loro nutrice, che soleva presentare per loro l'offerta al Signore, le vedeva venire fuori dalla tomba e uscire di chiesa. Essa, avendo più volte notato che le religiose defunte uscivano di chiesa e non potevano rimanervi proprio quando risuonava l'invito del diacono, si ricordò che l'uomo di Dio le aveva minacciate di scomunica, se non si fossero corrette del loro modo di parlare e di agire. Con grande afflizione la cosa fu resa nota al servo di Dio. Subito egli consegnò di sua mano un'offerta, dicendo, «Andate a presentare per loro questa offerta, e saranno sciolte dalla scomunica». E avvenne proprio che, una volta presentata questa offerta per loro, quando il diacono ripetè per gli scomunicati l'invito a lasciare la chiesa, esse non furono più viste uscire. Da ciò si comprese chiaramente che, poiché ormai non uscivano più tra gli scomunicati, esse, grazie all'uomo di Dio, erano state dal Signore reintegrate nella comunione. Pietro È davvero sorprendente il fatto che un uomo, sia pur santo e venerabile, tuttavia ancora in questa carne mortale, abbia potuto sciogliere anime già comparse davanti all'invisibile giudizio di Dio. Gregorio Pietro, non è forse ancora in questa carne mortale colui che si sentì rivolgere queste parole, «Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli?» Ora, in sua vece, ottengono il potere di legare e sciogliere coloro che, con fede e santità di vita, tengono in mano il governo delle cose spirituali. Ma perché l'uomo, fatto di terra, potesse esercitare un così alto potere, lo stesso Creatore del cielo e della terra è disceso dal cielo sulla terra, e perché la carne potesse giudicare anche gli spiriti, nella sua benevolenza, Egli che è Dio, si è degnato di farsi carne per la salvezza degli uomini. Quindi, proprio perché la potenza di Dio si è abbassata al di sotto di sé e si è fatta debole, la nostra debolezza di uomini è stata elevata al di sopra delle sue possibilità. Pietro, la spiegazione che ne dai è in pieno accordo con la potenza dei segni operati. Gregorio Un monaco, lasciatosi andare all'istabilità del cuore, non voleva più rimanere in monastero. L'uomo di Dio assiduamente lo rimproverava e spesso lo esortava, ma Egli assolutamente non poteva saperne di rimanere in comunità e insisteva di continuo fino a diventare importuno perché lo lasciassero andare via. Un giorno, infine, il venerabile Padre, amareggiato per la sua insistenza, gli ordinò con sdegno di andarsene pure. Il monaco era appena uscito dal monastero ed ecco vide ergersi contro di lui per la strada un grosso drago con la bocca spalancata. Pronto a divorarlo. Allora, tutto tremante con il cuore in gola per lo spavento, Egli cominciò a gridare «Correte, correte, questo drago vuole divorarmi!» I fratelli accorsero subito, ma non videro nessun drago. Riportarono allora in monastero il monaco ancora tutto tremante con il cuore in tumulto. Egli promise all'istante che non si sarebbe mai più allontanato dalla comunità. Ed effettivamente da allora in poi rimase fedele alla risoluzione presa, poiché, grazie alla preghiera del Santo, aveva potuto vedere ergersi contro di lui quel drago che prima, senza vederlo, Egli di fatto seguiva. Sia lodato a Gesù Cristo in nomine Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen.